Quarta partita utile consecutiva per il nuovo affetto, terza vittoria di fila comunale tra Poggio Berni, Colonnella e Granata con in mezzo il pari di Miramare. Vincono le altre dirette concorrenti per la zona salvezza, eccezion fatta per lo Junior San Clemente, ma con un nuovo affetto è così, il tecnico Denis Guerra sa e afferma. Sì è stata una partita giocata con il cuore, con la grinta, la determinazione, la voglia di portare a casa tre punti, quasi sempre è stato così, purtroppo non si era mai riuscito, questa volta invece è servito il cuore, la grinta, la determinazione e siamo anche con la fortuna riusciti ad arrivare a... Mentre Andrea Cantoni riassume così la quantità di gioco creata dai suoi. Io ringrazio i miei ragazzi, è andato tutto, abbiamo fatto una gran bella partita per oggi, sinceramente saremmo potuti giocare fino a mezzanotte, ma la palla proprio non entrava, ho perso il conto delle occasioni che abbiamo avuto, ma non ce l'abbiamo fatto oggi. Granata pericolosa già al primo, con Sabia, cross al centro, colpo di testa dei Samori, Ronci, si fa trovare pronto. Dall'altra parte, dalla bandierina, Fraboni pennella per la testa di Tommaso Raffaelli che non tradisse, l'appuntamento con i gol, terzo centro di stagione per l'attaccante gettato nella mischia da Denise Guerra fin dalle prime battute, la felicità è ovviamente d'obbligo. Granata che risponde con una punizione di Sabia, deviata da terra da Fiori, con Ronci che si rifugia in corna ed applausi l'intervento in spaccata della rietta del Granata, altrettanto la parata dell'estremo di casa. Fiori che ci prende gusto, recupera il pallone e spara verso la porta avversaria non centrando il mirino. Sabia sulla fassa invece vince un contrasto, mette al centro, Raffaelli allontana momentaneamente sui piedi Samori che va subito alla conclusione, non inquadrando il bersaglio. Su finire di prima frazione di gioco, contro il piede del Granata, assupato malamente da Pagliarani che in due contro uno, preferisce anziché servire il compagno, tentare la solo personale, alzando la mira. Ad inizio ripresa lo scenario non cambia, Granata che su punizione chiama l'intervento Ronci sulla respinta, colpo di testa di Uguone, traversa piena, poi batte e ribatti e la palla viene gettata in corner. Dalla bandierina, altra mischina di rigore, colpo di testa questa volta di Casali e il palo a negare la gioia del gol al difensore centrale. Sortita offensiva, denova ferita, Cupi, disceso sulla destra, traversone per Stefanelli che di testa mette alto. E' la volta di Sebastiani che dopo aver raccolto un traversone e aver conquistato nuovamente palla, va alla girata, ma Castagnoli c'è. Ma quello che succede dopo in area avversaria è da panico. Tiro di Magrini, altra mischia, batte e ribatti, zampata finale di Sabia che c'entra la gamba di Ronci, ancora una volta pronto a negare la gioia del gol agli avversari. Granata che insiste, palla a cercare il neoentrato Murri, a tiro a giro, palla fuori di un nulla. Fiori vuol cercare la via del gol, la calcio di punizione, Ronci respinge efficacemente. Sliding doors e la porta della velocità passa sul treno dei padroni di casa. In contropiede, Sebastiani prende palla, uno contro uno, mette a sedere Magrini e infila Castagnoli. 2-0 e quarto centro in stagione per la zanzara gialloblu. Sembra finita, Fraboni vuole incidere da calcio piazzato, ma Castagnoli controlla la traiettoria. Entra l'ambulanza, gioco fermo per sei minuti, Bettini lascia anzitempo in campo, per lui si temi peggio. Da parte nostra vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione al centrocampista gialloblu, che fino a quel momento era stato autore di una partita memorabile. L'ultima emozione, in pieno recupero, la regala il neoentrato Murri, che con il tiro a giro questa volta trova Cupi a deviare la propria traiettoria, con Ronci che viene scavalcato dal tocco del compagno. 2-1 e fine dei giochi. In mantra di guerra, compie la mission impossible, gettando il tutto per tutto, mentre in Granata si dimostra formazione di alta classifica. Cantoni avrà sicuramente da divertirsi.